ciao ragazzi e benvenuti con l'ultimo video di questa rassegna in questa serie di questa piccola serie dunque il 2021 del e qua siamo arrivati alla prima squadra siamo arrivati alle noti note dolenti allora 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 2022 che si aprirà con un'altra finale la super punti dal mi dal quarto posto e a 5 dal terzo una juve che sta ricostruendo diciamolo apertamente una juve che deve ricostruire una juve che purtroppo ha perso tanto del nove anni comunque abbiamo vinto ha perso Ronaldo e questo è purtroppo un non bisogna sottovalutarlo perché ragazzi Ronaldo è un giocatore di quelli che ti faccio 30 gol a stagione nella peggiore delle ipotesi e tu quest'anno hai il migliore attaccante che ne ha fatti 5 ragazzi non possono girare quanto volete ma nel calcio se non fai gol è una juve che sta ripeto con ricostruendo ha preso Locatelli che secondo me è un ottimo acquisto e vedremo poi cosa ci riserverà il 2022 io credo che questa squadra possa crescere ancora abbia tante individualità che altre squadre non hanno ma che altre squadre compensano con la fame che molti giocatori nella juve non hanno più che vanno urgentemente salutati prima possibile quindi niente ragazzi sulla prima squadra c'è poco in realtà c'è poco da dire noi stiamo qui a fare le tragedie greche no spesso però la prima squadra è comunque in champions ha passato il turno e ha passato il turno nel girone affronterà Villareal che è una buona squadra ma secondo me non è la squadra più forte era una delle più deboli secondo me nel torneo onestamente non so cosa cosa ha raggiunto io credo che Allegri stia facendo un ottimo lavoro di ricostruzione mentale di una rosa scarica mentalmente in certe partite si vede il lavoro di Allegri di testa cosa che l'anno scorso ad esempio non c'era due anni fa non c'era due anni fa addirittura è stato un lavoro di distruzione della mentalità dei ragazzi il problema di Allegri rispetto all'anno scorso è che mancava Cristiano Ronaldo probabilmente con Cristiano Ronaldo questa rosa si stava a giocare il campionato con l'Inter tranquillamente e lo dico proprio apertamente perché la Juve quest'anno ha buttato via punti per non aver segnato non perché non è stata in grado ma per essersi divorata delle occasioni a dir poco clamorose cioè io prendo Verona la Juve le occasioni a Verona le ha avute col Sassuolo ci siamo mangiati tutto quello che si può mangiare in una partita di calcio poi finisce 2-1 per loro giustamente bisogna fare i complimenti a loro ma loro rispetto a noi non hanno fatto niente loro rispetto a noi hanno segnato due tiri due gol noi 20 tiri un gol solo ragazzi il calcio è questo l'anno scorso era uguale a Benevento mi hanno buttato via punti in questa maniera la differenza la differenza è che l'anno scorso c'era Cristiano Ronaldo che ti faceva 30 gol quando non c'era succedevano quello che succede quest'anno tipo Benevento quindi niente ragazzi c'è da dire una cosa io ho molta fiducia in Massimiliano Allegri credo che sia l'allenatore giusto per ricostruire quando dicono eh ma ha preso sono tutte cagate che ha preso la squadra che aveva in mano Conte sono tutte cagate ma non tanto perché io posso dirvi che ha preso la squadra che aveva in mano Conte il primo anno il primo anno va di Berlino ok tanto è riuscito a fare quello che Conte non era mai riuscito a fare cioè passare bene in Champions arrivare fino in finale e soprattutto vincere Racco visto che non conta bisogna contare solo quando si vince contiamo le Coppe Italia che Conte ha sempre snobbato facendoti fare delle figure clamorosamente barbine ma poi il discorso di Conte gli ha dato la squadra già pronta da Allegri vale soltanto fino a Berlino perché dopo la Juve di Berlino viene smembrata rigenerata e lì ce l'ha in mano solo Allegri perché va via Tevez va via Pirlo va via Vidal e ragazzi è andata via mezza squadra è andata via più di mezza squadra ci sono trovati con Di Bala Mandzukic che dira e quindi un nuovo ciclo un nuovo ciclo che Allegri contribuisce e crea e crea con quella squadra ma crea lui non prende il lavoro di Allegri di Conte cioè quindi bisogna dire la verità Allegri ha fatto un ottimo lavoro di ricostruzioni sia lì ma attenzione anche al Milan perché lui al Milan prende una squadra che era sul viale di tramonto e vince un campionato perde il secondo anno con una squadra completamente alla frutta il terzo anno rifa completamente la squadra Berlusconi gli smembra tutti e rifa la squadra e riesce ad arrivare terzo riesce ad arrivare terzo e portare il Milan in Champions quindi alla fine lui al Milan che viene tanto criticato il suo l'ha fatto il suo l'ha fatto il Milan dopo di lui non si è più ripigliato ma non perché lui è perché lui era un valore aggiunto come un valore aggiunto la Juve cioè non è un caso che comunque via la Juve la Juve ha avuto un crollo ma non perché lui sia il mago è semplicemente un valore aggiunto è un valore aggiunto noi prendiamo Allegri con Allegri comunque arriviamo a giocarcela superiamo l'Atletico Madrid con l'Ajax siamo molto sfortunati sul livello di infortuni perché nessuno lo dice ma contro un Ajax che aveva appena battuto Real Madrid 4 a 0 e questo va ricordato noi ci troviamo senza Manzocchi senza Chiellini con molti giocatori fuori forma e nonostante tutto siamo arrivati a un palo dal passaggio del turno perché ripeto da Crash Costa quando ha preso il palo ad Amsterdam l'anno dopo abbiamo francamente fatto un anno molto pessimo lì è stato l'anno zero l'anno zero con Pirlo hai fatto uno step in avanti comunque con Pirlo hai vinto due trofei con Pirlo hai vinto due trofei Coppa Italia e Supercoppa sono due coppe i trofei vanno portati a casa sempre quindi adesso vediamo cosa ci aspetta il 2022 io sono contento comunque della scelta che ha fatto la società mi auguro che interferò sul mercato a gennaio ci serve un attaccante e ci serve come il pane e questo inutile negarlo cioè ragazzi possiamo dire quanto vogliamo ci serve e niente ragazzi voto 6 6 e mezzo perché comunque può la casa due trofei senza quei due trofei l'anno diciamo due trofei e qualificazione da primo negli ottavi di Champions contro i campioni d'Europa ti valgono il 6 e mezzo chiaramente chiaramente senza quei due trofei sarebbe stata una stagione da 5 però insomma direi che tutto sommato è per ora per ora io 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 non mi voglio lamentare troppo ecco voglio aspettare maggio vedere come va la situazione detto questo chiudo dicendo che sono credo che la società sia ben conscia di quello che stanno incontro in generale né positivo né negativo non lo dico per qualcosa ma perché ha fatto quattro anni ed allegri non sta mettendo pressioni sta dicendo ragazzi c'è da ricostruire fallo con fallo ma prendici prenditi il tempo che vuoi ma dobbiamo tornare a giocarci con le bighe europee e sono convinto che con allegri questa cosa allegri riuscirà a farla allegri l'ha fatta la juve il secondo anno lo ribadisco perché non gli hanno smembrato la scuola di berlino l'ha rifatto l'ha fatto col mina quando gli hanno smembrato tutta la scuola l'ha fatto con il cagliari e l'ha fatto col sassuolo allegri un grande allenatore e lo dimostrerà anche in questi quattro anni di juve ci riporterà a vincere trofei ne sono sicuro e niente fino alla fine forza juventus mai mollare ripeto voto totale 6 e mezzo ma ovviamente alla juve bisogna giocare sempre per il 10 ciao a tutti ragazzi